Bevi. C'è un buco nella maschera. Dopo là più pizzicano. Vabbè, vai in macchina, Marinella, e non rompe. Ma che ci faccio io qui? Il Paese delle Meraviglie. Sarà qui? Lei, signore, è molto bello. Questo perché? La rifacciamo? Selezioneremo solo sette famiglie. E la famiglia più impegnata nella tutela del nostro patrimonio ucciderà il sacco di sogno. Partecipariamo alla selezione e al Paese delle Meraviglie. Ecco, ci manca questa stronzata. Qui sono anni e anni che non si muove più niente. Forse così si crea un po' di lavoro, viene un po' di turismo. Ma noi ce l'abbiamo, un lavoro bellissimo. Vuole fare la contadina? Eh? 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 Perché no, eh? Vuoi costruire un muro intorno a lei? Ma non mi posso scrivere? E non ho mai detto niente. Ma è una cosa né. Ho una cosa buona. Ma è una cosa buona. È bella. È meraviglioso, un applauso! Grazie mille!